Vasile Balichi aveva 20 anni, Tudor Muntene ne aveva 21. Sono le due vittime dello schianto avvenuto all'alba di domenica a Chioggia, in provincia di Venezia. La loro automobile, dopo essere uscita di strada, è piombata dentro al canale che costeggia via Lungadige. Un terzo giovane che viaggiava in auto con loro è riuscito a venire fuori dal mezzo ed è stato trasferito all'ospedale con l'elicottero. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi. Per ora i vigili del fuoco hanno anche scandagliato il tratto alla ricerca di una quarta persona, ma fortunatamente l'ipotesi della sua eventuale presenza in tarda mattinata è stata esclusa. Le due vittime originarie dell'Est risiedevano a Isola Verde.